Lo skyline di Avellino da oggi cambierà volto, non ci sarà più il silos della morte, il simbolo dell'isochimica imbottito di amianto. È stato rimosso in mattinata dagli operai della PMT Ecologia di Civitavecchia che stanno lavorando alla bonifica della fabbrica di Borgo Ferrovia. Una torre alta 20 metri, da sempre simbolo del degrado di quest'area dopo la dismissione della fabbrica dei veleni. Soddisfatto l'assessore all'ambiente Augusto Penna che non manca di ringraziare il sindaco Foti e il procuratore della Repubblica Rosario Cantelmo. Con oggi facciamo un grande passo in avanti per la città grazie all'impegno di tutti. Il silos grande, quello che svettava sopra questi cancelli che era visibile da tutto Borgo Ferrovia e da buona parte della città, adesso non c'è più. La bestia è stata abbattuta. Vorrei ringraziare innanzitutto il sindaco Paolo Foti che può essere ricordato, l'ho detto già in altre occasioni, come il sindaco che ha bonificato isochimica. Vorrei ringraziare anche il procuratore della Repubblica che ha portato una nuova coscienza civica a questa città, ha imposto una nuova coscienza civica a questa città. Ora il prossimo passo sarà la bonifica superficiale che partirà a settembre. Inizieremo con la progettazione definitiva della grande bonifica superficiale di quest'area che prevede l'abbattimento dei capannoni, lo smaltimento, il recupero di tutti i cubi e la loro messa a smaltimento e la discarica autorizzata. Questo nostro grande problema diventerà e sta per diventare una grande risorsa per questa città. Grazie. 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 Grazie.